Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti a un nuovo video. Il video di oggi è una make-up routine. Non una di quelle classiche però, ma una make-up routine cruelty free e quasi completamente vegana. Per chi non mi conoscesse, infatti, sono vegana da quasi due anni e la scoperta di uno stile di vita a livello alimentare vegano mi ha pian piano nel corso del tempo fatto scoprire anche che anche i prodotti che utilizziamo sfruttano gli animali. E quindi pian piano ogni volta che mi finivano dei prodotti, sia a livello di make-up che a livello di beauty invece di comprare un qualsiasi prodotto nel mercato che la pubblicità consigliava sono andata a fare delle ricerche e a comprare prodotti che sostituissero quelli buoni che già avevo ma che fossero anche cruelty free prima di tutto e in secondo luogo, se possibile, anche vegani. Naturalmente non sono perfetta, sono ancora in fase di transizione il che significa che alcuni prodotti che vi mostrerò non sono magari o completamente cruelty free o completamente vegani perché ho preferito finire le cose che già avevo per poi ricomprarne altre appunto ma comunque vi consiglierò e vi lascerò qua sotto in descrizione i prodotti che vorrò comprare in futuro e sostituire a quelli che già ho. Quindi detto questo cominciamo subito con il make-up. Allora, per prima cosa mi leggo i capelli. Comincio subito dal correttore e vado a usare quello della Nars in crema. Negli ultimi tempi sto cercando di liberare la mia vita da ciò che non mi serve, diciamo e io soprattutto verso i 16-17 anni ero ossessionata possiamo dire dal make-up. Il precedente canale che avevo infatti è cominciato proprio come un canale di make-up, crediateci o no e preferivo la quantità alla qualità e quindi avevo tanti prodotti che magari usavo pochissime volte o che non mi piacevano invece di averne pochi, un po' più costosi ma buoni. Invece adesso che sono cresciuta sono tutt'altra persona, preferisco infatti la qualità alla quantità e quindi preferisco avere pochi prodotti che costano un po' di più ma buoni che mi piacciono, mi rendono felice e mi fanno stare bene. Proprio come questo correttore della Nars. Anche il correttore precedente che avevo era vegano e cruelty free ed era quello della Urban Decay che mi è durato più di un anno e spero che questo faccia altrettanto. Al momento mi sta piacendo tantissimo perché non copre solo ed esclusivamente le occhiaie ma ha anche i brufoletti che qualche volta spuntano nel viso di tutte noi. E quello che faccio è praticamente andarla ad applicare con un pennello che sempre ho comprato da poco perché non avevo un pennello per il correttore che è quello della Real Techniques che volevo comprare in Francia ma che ho trovato anche qua in Italia mi sembra all'OVS e che è un pennello con le sedole completamente vegane quindi non hanno utilizzato alcun povero animale per produrre questo oggetto. E Real Techniques è una grandissima marca di pennelli, famosissima, ne ho sentito parlare anche prima che diventassi vegane e che conoscessi tutto questo mondo e che è fantastica, morbidissima e che vi devo dire mi piace un sacco. Lo che faccio quindi è applicarne giusto un pochino sotto gli occhi e poi anche un po' col pennellino e poi vado a massaggiare le occhiaie. E faccio la stessa cosa nelle zone più delicate, ossia quelle dove ci sono i brufoli. Ne è appena uscito uno qua, quindi la metto pure qua. E lo applico anche sotto il naso perché tendo sempre a essere arrossata in quelle zone. E il colore che uso io comunque è il Custard. A questo punto di solito passo subito alle sopracciglia e al momento sto usando la matita della sopracciglia di Kiko con cui mi trovo molto bene, che mi ha comprato mia madre ma che sicuramente non penso sia vegan. Forse cruelty free sì, perché mi sono informata sul sito della Kiko e per quanto mi ricordi non testa sugli animali però non vi posso dare la certezza che questa sia anche vegana. Usavo in precedenza ma poi mi è finita, non l'ho trovata ed è per questo che poi ho comprato questa perché mi serviva. Quella della Benecos, la matita per sopracciglia della Benecos. La Benecos è una marca fantastica, ne vedrete tanti di prodotti della Benecos in questo video e mi trovavo benissimo anche con quella. Era molto simile, riprendendo il discorso di questa matita quello a che uso è la 02. Quindi per il momento andrò a usare questa e poi vi farò un update nel momento in cui riaggiornerò meglio i miei prodotti make-up. E poi passo al viso e come fondotinta non vado a utilizzare niente di pesante perché mi voglio sentire leggera, voglio essere semplice, non voglio niente che mi appesantisce ma voglio semplicemente qualcosa che mi uniformi, diciamo, il colore del viso. Ed è per questo che vado a usare un fondotinta minerale, in questo caso quello della Benecos. E questa è già la seconda volta che l'acquisto, mi sto trovando benissimo, non ho assolutamente intenzione di cambiarlo e questo, se vi interessa, è il colore Medium Beige. Già incluso, diciamo, nel prodotto c'è il pennellino con cui passarsi il fondotinta, però in questo caso io uso un altro pennello che è il peggior pennello che vi posso consigliare, quello di H&M, ma per il momento non ho trovato nessun miglior Kabuki, Vegan e Cruelty Free in circolazione e per il momento quindi mi accontento di questo. E quindi quello che faccio è mettere giusto un pizzico di polverina qui, mescolare con il Kabuki e applicare. Adesso che sono in vacanza mi piace anche mettere un po' di terra e un po' di blush e vado sempre a usare quelli della Benecos e per applicarli, lo so, è sbagliato, vado a usare lo stesso pennello e questo sempre è della Benecos e il materiale sinceramente mi piace tantissimo. Mi piace molto anche l'estetica, è fatto di legno veramente molto pulito, elegante e non costa neanche tanto, intorno ai 5€. Ho convertito tutte le mie amiche a comprare questo pennello e quindi niente, quello che faccio è quello che fanno tutte, ossia prendere un po' di terra, che come potete vedere è quasi finita, quindi ha fatto il suo lavoro e la vado ad applicare un po' sotto le guance, giusto per dare un po' di profondità al viso e a volte la metto anche un po' qua e tipo sotto il collo, solamente perché tutti lo fanno. E faccio la stessa identica cosa con il blush, quindi lo applico, sorrido e tutto qua. E per finire il viso passiamo all'illuminante che indovenate un po' di che marca è, della Benecos. Questo illuminante è veramente fantastico, costa tipo una cifra ridicola e mi ci sto trovando benissimo. Quello che faccio è semplicemente applicarlo con un dito e metterlo leggermente sopra a dove ho applicato il blush, leggermente più sopra, giusto per dare luminosità al contorno occhi, se così si può dire. E poi ne vado a mettere un pizzichino sulla punta del naso e seguo tutta la linea del naso. Non prendete in parola quello che dico, perché veramente non si sa in che lingua sto parlando oggi. Ne metto un pochino qua e sopra le sopracciglia. Sopra le sopracciglia. A questo punto il mio viso è fatto e quindi possiamo passare agli occhi. I giorni in cui mi voglio truccare bene, ho una cena oppure esco con gli amici, di solito uso la famosa, famosissima e troppo conosciuta, Naked 2 della Urban Decay, che penso che se avete un pochino di cultura riguardo il make-up tutti conosciate. Questa l'ho comprata parecchi anni fa, circa un 3 o 4 anni fa. L'ho usata pochissimo, lo sto usando più adesso che prima, prima la tenevo come una reliquia e finivo praticamente per non usarla per niente. E senza saperlo, fortunatamente ho speso un sacco di soldi in una palette che comunque è cruelty free e vegan. Perché fortunatamente marche come la Urban Decay, la Too Faced, la Tarte e molte altre ancora, sono marche buone, hanno prodotti ottimi e sono anche cruelty free e vegani. Quindi un punto in più per loro. Però, siccome questo video è una minimal cruelty free make-up routine, vi mostrerò il look che faccio quando mi sento un po' più pigra, quando devo andare veloce, quando vado di corsa. E quindi andrò a usare come ombretto l'illuminante della Benecos che vi ho mostrato prima. E tutto quello che mi serve è praticamente un dito e una palpebra, anzi due. E lo applico semplicemente così. E giusto perché sto girando un video, decido di dare un po' più di intensità e luminosità all'occhio usando il bianco matte della palette della Urban Decay, che applico con il pennellino che trovo appunto nella palette. Prima di passare però al mascara, applico un piccolo dettaglio e vado a utilizzare la matita Natural Cajal bianca, sempre della Benecos, e l'applico sotto gli occhi per aprire la palpebra. Mi sembra infatti che applicando una matita chiara, beige o bianca sotto l'occhio, i miei occhi sembrano più svegli, più aperti, più grandi, in generale. E fatto questo, posso passare al mascara, che è il famoso I Love Extreme della Essence, che sempre ho comprato per necessità, non penso sia cruelty free o vegano, forse non testa sugli animali, però non vi do la certezza che sia vegan. Ho utilizzato in passato uno vegan e cruelty free della Benecos, ma non ve lo raccomando molto, almeno per me. Mi sembra che faceva tanti grumi, non mi piaceva l'odore e non mi piaceva neanche in generale come faceva apparire le mie ciglia. Sto pensando di provare il famoso e famosissimo mascara della Urban Decay, che costa un occhio della testa, e che è quello chiamato Better Than Sex, e di cui ho sentito parlare anche prima di diventare vegana, e di interessarmi a questo stile di vita. Però, per il momento, mi accontento di questo. E infine passiamo alla parte che io personalmente preferisco, ossia i rossetti o lipstick. Nel momento in cui ho deciso di non voler più comprare prodotti testati sugli animali, o che avessero prodotti animali all'interno, la cosa più difficile è stata appunto liberarsi oppure comprare dei nuovi rossetti che sostituissero quelli vecchi e che dessero lo stesso risultato. E vi dico che non solo hanno superato il test, ma sono anche meglio di quelli che compravo prima. In particolare, probabilmente già lo saprete se mi seguite su Instagram e sulle mie storie. Uno degli ultimi giorni che sono stata in Francia, sono andata da Sephora e finalmente, dopo anni e anni che lo volevo, ho investito in un buon lipstick, ossia quello della Kat Von D, il famoso, se lo conoscete, Lolita. Questo però non è lo specifico Lolita, ma il Double Dare, che preferisco, che penso stia meglio con il mio colore di pelle, diciamo. E ragazze, che ve lo dico a fare, vale i 19,95€ che costa assolutamente, non costa neanche tanto per quello che è, perché ci sono alcuni rossetti tipo Chanel, Dior, che non hanno lo stesso risultato di questo. Ultimamente sto usando sempre e solo questo. All'inizio è un po' luminoso, shiny, fa proprio l'effetto del lipstick, ma pian piano si mattifica e dà l'effetto mattificante appunto opaco del rossetto, che secondo me è bellissimo. Intanto che aspettiamo che il rossetto si asciughi, io vi mostro altri due rossetti, sempre vegan e cruelty free, della Nabla Cosmetics, che ho da più di due anni e che ancora non mi hanno stufato, il che per me è un miracolo. E sono il closer, che è l'ultimo che ho comprato ed è esattamente il colore delle mie labbra. Di solito questo me lo metto quando sono completamente struccata e voglio semplicemente far vedere che non sono completamente struccata mettendomi un rossetto che semplicemente rende omogeneo il colore delle mie labbra. E poi un altro colore, un po' più forte, ma sempre tendente al nude, che è il pantarei, che praticamente con questo caldo si è sciolto e che è quasi finito perché ho da tantissimo tempo, l'ho comprato pochi giorni dopo la maturità, mi sembra, quindi ha tipo due anni e che ho usato tantissimo in questi anni, sia in inverno che in estate e che hanno una durata fantastica, sono mattificanti, quindi hanno un risultato opaco, li potete trovare in molti negozi biologici, ma mi sembra che lo venda anche Italy e quindi niente. Intanto, come potete vedere, il mio lipstick della Kat Von D si è asciugato, ha un effetto fantastico, mi resterà per tutto il giorno, potete mangiare anche cose oliose, andare al ristorante e non si leva, è veramente una cosa fantastica questo rossetto. E detto questo, questa è la mia make-up routine finale. Adesso mi sciolgo i capelli, giusto per dare l'effetto drammatico. E questo è quanto. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, non sono sponsorizzata da nessuna delle marche che ho citato, ma se vedete questo video, contattatemi. Spero di avervi dato qualche ispirazione, mettete un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video, commentate qua sotto se avete qualsiasi richiesta video. Io sono sempre felicissima di leggere i vostri commenti. Commentate anche se conoscete qualche brand, qualche marca o qualche prodotto che sapete appunto sia cruelty free e vegano e che volete condividere con me e con tutti coloro che leggeranno i commenti qui sotto il video. Come al solito vi dico di seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, dove posto tutti i giorni. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao ciao!